Cari amici di Radio No Frontiere, siamo qui per un servizio esterno eccezionale, siamo nel nuovo polo di ingegneria a San Giovanni. Abbiamo con noi Leopoldo Angrisani che ci spiegherà innanzitutto come è avvenuto l'insegnamento e un po' con la cronistoria della costruzione di questo polo. Si presenti innanzitutto nel suo ruolo e ci spieghi innanzitutto la sua presenza qui. Sono Leopoldo Angrisani e sono attualmente il direttore del centro CESMA che sta per Centro Servizi Meteorologici Avanzati che è la prima struttura operativa della Federico II che si è insediata in questo polo. Il polo di San Giovanni nasce da un progetto che risale a diversi anni fa quando la Federico II, d'intesa con le istituzioni locali, decise di rilevare tutta la zona che caratterizzava il vecchio insediamento cirio, ormai in disuso e in abbandono da diverso tempo, cominciando così un processo importante di riqualificazione della zona e quindi anche di valorizzazione del territorio. Sono state fatte nel corso del tempo diverse opere, in particolare è stato necessario bonificare, fare opere di bonifica importanti del territorio, del suolo, prima di cominciare le costruzioni dei primi lotti. Quello che vediamo qui alle mie spalle sono i primi tre lotti che sono stati realizzati, ormai rilasciati da quasi due anni a questa parte, che noi in gergo citiamo normalmente come lotto 1, questo che vediamo qui alla mia sinistra, questa prima palazzina che poi si incunea in quest'altra e quindi longitudinalmente così, per poi avere una propaggine ad L nella parte bassa, dopodiché abbiamo il lotto 2 che è questo di fronte a noi, che ha forma di una specie di T che si va ad incuneare con la propaggine del lotto 1 che chiude e poi lì sulla mia destra abbiamo il lotto 3, quell'edificio bianco con la propaggine azzurra che vedete in fondo, che ospita i cosiddetti laboratori pesanti del CESMA, dove ci sono grandi strutture e grande spazio per produrre prove, soprattutto nel ramo meccanico, aero-spaziale, strutturale e così via. Questa struttura, i due moduli, L1 e L2, sono moduli da tre piani, abbiamo un piano terra, un primo piano, un secondo ed un terzo piano. Il CESMA attualmente occupa il piano terra di L1 e L2, il primo piano di L1 e L2 e solo una parte del secondo piano di L2 e ovviamente tutto L3 perché lì si concentrano i laboratori pesanti. Il resto è uno spazio che in questo momento è destinato principalmente all'IOS Developer Academy, in particolare una sistemazione transitoria dell'Academy è prevista in una parte della porzione del secondo piano, mentre invece la sistemazione al regime prevede l'intero terzo piano, cioè quello che da lì, dalla sinistra, corre lungo tutta la struttura per chiudersi lì in fondo. Quindi questo progetto praticamente nasce, vogliamo un attimino dirlo se è una cosa che è stata cofinanziata dalla regione Campania oppure è una questione istituzionale che parte dal governo oppure c'è anche un contributo della comunità europea. Come nasce le varie istituzioni che si sono interessate per la nascita di questo progetto? Sì, qui abbiamo un intervento estremamente importante, fortissimo nella regione Campania, ovviamente facendo leva su fondi europei e quindi la regione ha creduto molto in questa cosa e soprattutto ha visto in Federico II una leva operativa importante per l'attuazione del progetto. Abbiamo avuto qui la visita anche di alcune delegazioni europee per la verifica dei lavori effettuati ed è stato sempre letto sui loro volti un entusiasmo molto forte. Tanto è vero, dai leggerlo quasi anche a modello realizzativo di alcune opere. Ricordiamo che tutti i progetti cofinanziati dalla comunità europea hanno chiaramente una tempistica e su quello bisogna essere rigiti altrimenti i fondi vengono sottratti. Esattamente, qui le tempistiche sono state rispettate e tra l'altro anche con valorizzazione dei risultati. Come in questo caso, in cui noi riusciamo, grazie a questa struttura, ad ospitare realtà importanti, in questo momento Apple, ma abbiamo in cantiere diverse altre iniziative che possono prendere spunto da questa. Tanto è vero che quello che vediamo realizzato, giusto per darvi una indicazione, adesso proprio davanti a me si snoda il cosiddetto modulo C, quello che noi in gergo chiamamo modulo C, che è un modulo dedicato in questo momento, che noi dedicheremo alla didattica di ingegneria, in particolare ospiterà il primo anno, già dal 20 settembre, ospiterà parte del primo anno di ingegneria. Già parte. Già parte, quindi saremo operativi dal 20 settembre. arriveranno qui circa 900 studenti, ci aspettiamo che è mediamente un terzo della popolazione studentesca di ingegneria del primo anno, in modo tale da far vivere il complesso anche agli studenti e dà loro un'opportunità di avere vicino, anche in realtà importanti, a parte l'Academy, ma anche i grandi laboratori che stiamo costruendo. Non solo, e anche ci aspettiamo di avere in futuro proprio brevissimo anche aziende che proveranno con noi a fare dei laboratori congiunti, quindi ad insediarsi all'interno della struttura per creare quel connubio. Un nuovo collegamento tra studenti e il mondo del lavoro, che forse non c'era per i vecchi laureati o no? Esattamente, esattamente, qui stiamo cercando di ricreare. Un attimino, anche perché facciamo un attimino della cronistoria, nel corso di laurea di ingegneria si è rilevato negli anni, sì, diciamo, interessante per coloro che uscivano, i sblocchi laureati, però è stato un po' dispersivo perché erano le specializzazioni che poi hanno eliminato alcuni settori. Quindi adesso sarebbe giusto, appunto, creare un collegamento perché molti laureati, insomma, sono ancora della vecchia generazione, sono ancora, diciamo, in un mondo lavorativo in definito. Quindi l'obiettivo forse deve essere questo. Esatto, quindi il maggiore contatto può creare anche, come dire, una maggiore consapevolezza di quelli che possono essere i percorsi delle persone, degli studenti e quindi anche dare la possibilità di fare delle scelte più ragionate, più consapevoli. Magari capire più il mondo del lavoro che prima era un po' astratto. Un po' astratto, esatto, tenerlo vicino e quindi magari anche stimolare da questo punto di vista, fare in modo che lo studio poi diventa più stimolato avendo accanto un mondo del lavoro che può essere una prospettiva futuribile. Quindi qua verranno studenti, ma anche studenti stranieri, qual è la, diciamo, la... Allora, noi come iscrizione, esatto, sicuramente, sicuramente, applicheremo qui lo stesso modello che in questo momento è applicato in Federico II come ingegneria, quindi sostanzialmente stiamo portando una parte anche a San Giovanni e come obiettivo principale ciò è stato fatto per dare una voce importante a tutta la platea che arrivava dalla zona est di Napoli e da quello che poi sono i paesi, diciamo, confinanti, da cominciare da Portici, San Giorgio, è importante perché si evita di passare dal lato ovest della città e questo ha avuto un grosso successo perché noi con le preiscrizioni abbiamo dato la possibilità agli studenti di fare, indicare anche una preferenza di sede, se la zona ost, la zona est e la zona ovest e dare anche delle prelazioni in relazione al tempo di immatricolazione, cioè al momento dell'immatricolazione. E ha avuto un successo importante, sì certamente, perché noi accogliamo tanti studenti dalla parte est. Quindi ricordiamo un attimino per arrivare qui alla nuova facoltà quali sono i mezzi di trasporto più facili. Esatto, allora un aspetto importante che ha visto lavorare in sinergia le istituzioni è stata l'apertura della nuova capolinea della linea 2 del treno metropolitano perché adesso abbiamo la fermata di San Giovanni, non è più gianturco ma abbiamo direttamente San Giovanni e poi con l'intervento del comune e delle altre istituzioni abbiamo avuto la possibilità di avere proprio l'uscita della metropolitana praticamente qui all'imbocco di Corso Protopisani, quindi esattamente a pochi passi dall'ingresso del polo, del polo di questo campus San Giovanni. Poi c'è la circunvesuviana che non è molto distante da qui, ci sono linee di autobus che arrivano, il tram che ha la fermata proprio qui nella piazza San Giovanni, cioè dove sta la rotonda. Quindi è abbastanza facile. Esatto, ci sono diverse soluzioni di poter raggiungere la zona. Benissimo, allora noi abbiamo fatto un primo excursus qui a San Giovanni, ci ripromettiamo di ritornarci magari per capire il progetto Apple e ci auguriamo che questo nuovo progetto abbia sempre più successo perché comunque è una nuova zona che sta nascendo e quindi bisogna essere entusiasti perché dopo un anno di buio adesso si fa qualcosa anche per gli studenti. Va bene, ringraziamo Leopoldo Angrisani. Grazie mille, grazie mille a tutti. E per gli amici di Radio 1 Frontiere ci rivediamo ai prossimi servizi esterni. Grazie.